Gli uomini trasformati dal virus sono noti come furiosi. Che c'è? Furiosi. Seguono schemi migratori, vanno in ibernazione, bevono e mangiano. E la loro preda preferita siete voi. Gli erranti sono i più comuni. Devono il loro nome al comportamento perché vagano in gruppi di due o tre, raramente da soli. E a volte danno vita a orde e sembrano rispondere come un unico organismo. Le larve sono opportuniste e attaccano solo gli intrusi nel loro territorio. O le prede in difficoltà. Attenti alle sirene perché possono attirare su di voi interi sciami. E se incontrate un colosso, siete nei guai. Armi e abilità sono essenziali per sopravvivere. Volete bruciare un nido di furiosi ma non avete Molotov? Niente paura. Basterà fabbricare sul campo nuovi dardi per la balestra. Le armi dei nemici non sono il massimo, ma i mercanti dei campi vendono ottime attrezzature. Negli scontri armati la concentrazione tattica può salvarvi la vita perché focalizza l'attenzione sul bersaglio prima di ogni colpo. Oppure elimina i nemici con attacchi furtivi. Le munizioni scarseggiano, quindi imparate a combattere in mischia. Anche creare e riparare armi è fondamentale. Avete di fronte due nemici? Ok, affrontateli. Ma se sono troppi, non correte rischi. E se siete in pericolo, scappate per salvarvi la pelle. In Days Gone affronterete avversari di ogni genere, dai cecchini nascosti tra gli alberi fino ai lupi in cerca di una preda. Siete pronti a combattere?